Maxi blitz della polizia, avvenuta la scorsa notte per sventrare un'organizzazione criminale che gestiva il traffico e lo spaccio di droga nel Salernitano. Oltre 400 gli agenti della polizia che hanno preso parte alla maxi retata di Battipaglia. 87 gli arrestati, tutti presumibilmente legati al clan Giffoni Noschese, che da tempo opera nella zona. L'operazione, condotta dagli uomini della squadra mobile di Salerno e del servizio centrale operativo e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, è l'epilogo di una lunga serie di indagini partite da lontano 2009 e protatte fino al 2012. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'organizzazione godeva del monopolio del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Battipaglia, operando con metodo mafioso. Oltre agli arresti, è scattato anche il sequestro di una villa e una società commerciale impegnata nella ristorazione. Durante la perquisizione, gli agenti della polizia hanno ritrovato, oltre agli ingenti somme di denaro provenienti dai traffici illeciti, anche 100 dosi di cocaina ed una pistola con matrice a brasa. Sempre secondo gli inquirenti, alla guida dell'organizzazione, Cosimo Podeia, Pierpaolo Magliano e Paolo Pastina, che da tempo avevano costituito, sfruttando metodi camorristici e la forza dell'intimidazione, una sorta di federazione alla quale partecipavano tutti coloro che nella zona di Battipaglia spacciavano la droga. Ritorsioni ed estorsioni erano invece le pratiche usate con chi non rispettava i termini di pagamento e le regole del clan. L'organizzazione criminale aveva, in questo modo, ottenuto il primato sulla fornitura e sulla distribuzione della droga su tutto il territorio battipagliese.